Uno scontro che poteva avere sicuramente conseguenze ben peggiori. Intorno alle 10.30 di lunedì mattina, sulla Via Nuova per Pisa all'incrocio con Via del Trebbio, a San Michele Nescheto, una Nissan Micra che procedeva in direzione Pisa è stata tamponata da una Renault Laguna. Nella carambola, l'utilitario ha centrato il furgoncino di una ditta ed ile che procedeva in direzione Lucca, il cui conducente, un uomo di 34 anni, è stato ferito in maniera seria. Feriti in maniera più lieve gli occupanti delle altre due vetture, un uomo e una donna, che sono stati comunque trasportati al San Luca per accertamenti. Sul posto per i rilievi e per regolamentare il traffico, che ha subito grossi ritardi per almeno due ore, sono intervenute due pattuglie della Polizia Municipale di Lucca, mentre una squadra dei Vigili del Fuoco è dovuta intervenire per estrarre i feriti dalle vetture.